Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo in clausura. Oggi vogliamo raccontarvi come Padre Pio e soprattutto chi gli insegnava a parlare altre lingue. Una spiegazione arriva direttamente da una lettera che lui scrisse a Padre Agostino nel 1912, che c'è una missione, cioè la missione del suo angelo custode nell'insegnargli le lingue. Scrive da Pietrelcino, una strana malattia, lo costringeva a stare a casa, non poteva stare in convento, una malattia permessa dal Signore. Lui racconta anche una gioia in questa lettera, la sua grande gioia, la gioia del soffrire, ma allo stesso tempo racconta che i personaggi celesti, l'angelo custode, ha una grande missione per lui, la missione di insegnargli le lingue. Infatti lui scrive, i celesti personaggi non cessano di visitarmi e farmi pregustare l'ebbrezza dei beati e se la missione del nostro angelo custode è grande, quella del mio è di certa più grande, dovendomi fare anche da maestro nella spiega di altre lingue. E qui è proprio Padre Pio che ci spiega come mai, lui conosce tutte le altre lingue e questo è un dono che si porterà anche qui a San Giovanni Rotondo. Ma cosa nel particolare scrive Padre Pio? Ecco, quel cosaccio, appunto, il diavolo da vari giorni qua mi sta muovendo una guerra a seppio aspra. Sarà questo l'ultimo suo assalto? Soffro e soffrassai, ma grazie al buon Gesù sento ancora un altro po' di forza. Sento nel mio cuore il grave bisogno di gridare, sempre più forte Gesù col dottore della grazia, da quod iubes et iube quod vis. Quindi mio caro Padre l'idea del mio soffrire non metta né sulla vostra fronte né sui vostri occhi un'ombra che potrebbe rattristare il vostro cuore. Sì, non piangiamo, Babbo mio, e duopo celare finalmente le nostre lacrime a colui che le manda, a colui che ne ha versate, ne versa tutti i giorni per l'ingratitudine umana. Egli si sceglie delle anime, tra queste contro ogni mio demerito, scrive. Ha scelto anche la mia per essere aiutato nel grande negozio dell'umana salvezza. E quanto più queste anime soffrono senza verun conforto, tanto più si alleggeriscono i dolori del buon Gesù. Ecco tutta la ragione perché desidero soffrire sempre più e soffrire senza conforto, e di ciò ne faccio tutta la mia gioia. Purtroppo ho bisogno del coraggio, scrive Padre Pio, ma Gesù nulla negherà. Ciò posso attestarlo dalla lunga esperienza fatta, neppurché non si cessa di importunarlo.